Iniziata con la deposizione di fiori sulla pietra del ricordo degli studenti e dei professori vittime del terremoto del 2009, la visita all'Aquila del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accolto dal Sindaco del Capoluogo Biondi e dal Presidente della Regione Abruzzo Marsilio, Mattarella ha sostato davanti alla pietra prima di prendere posto nel cortile della Scuola Mariele Ventre per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. L'Aquila è stata scelta come simbolo di rinascita nel decennale del sisma che causò 309 vittime, molte delle quali i propri studenti. Prima di venire in questa scuola mi sono fermato davanti alla stele che ricorda gli studenti e gli insegnanti morti in quella tragica notte di dieci anni addietro. Anche in loro ricordo avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Il Sindaco dell'Aquila ha consegnato al Capo dello Stato un documento con l'appello al Governo affinché si adottino misure importanti ed urgenti per favorire un nuovo impulso alla rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2009. A Mattarella si erano rivolti anche gli studenti del Liceo Aquilano Cotugno, che chiedendo un incontro avevano sottolineato la necessità della messa in sicurezza delle scuole del Capoluogo, molte delle quali ancora ospitate nei moduli provvisori. Il Ministro dell'Istruzione Fioramonti, nel suo messaggio augurale, ha voluto esortare i giovani studenti a cogliere l'occasione della propria formazione per migliorare il futuro individuale e collettivo. È un'esperienza irripetibile quella che vi accingete a fare, della cui importanza sarete consapevoli solo una volta che ve ne sarete allontanati. Non sprecatela, non credete agli slogan commerciali. Il mondo non è contenuto in uno smartphone, un'app non può risolvere tutti i vostri problemi, i social non sostituiscono la vita che c'è in una piazza o che c'è in una classe, sono soltanto un loro pallido e freddo surrogato. Scegliete di essere protagonisti e non spettatori delle vostre vite. Il futuro, proprio come il sapere, non si può comprare, ma è nelle vostre mani la possibilità di provare a reinventarlo, di imparare, come diceva Don Milani, a camminare in modo diverso nel mondo. Solo così potrete tracciare una strada differente, migliore di quella che vi abbiamo lasciato. E allora non vedremo l'ora di seguirvi. Buon anno scolastico a tutti voi.